Prima dello stacco di galoppo Newton-Rock, la chiusura delle ali, partiti. Al comando, Lemi Griff, veloce al via, attaccato di dentro da Manzoni SLM, che vuole correre davanti la terza posizione all'esterno. La partenza per Mendez B, che ha colto chiaramente, partenza interessante, il lancio in 13.8 con Manzoni, che è sfilato con Lemi Griff, che è sfilato al comando. Al suo esterno si presenta subito Mendez B, si sono formate nel frattempo varie pariglie, il passaggio dopo il primo quarto di corsa in 29.6, rigorosa fila indiana 15.8, la frazione con cavalli che ora vanno a transitare davanti alle tribune, con Mendez B, che è scavalcato. Lemi Griff si ritrova al comando, all'esterno si fa sotto Nereides, che si trascina a sua volta over the sky, con cavalli che vanno all'attacco della penultima piegata, il passaggio agli 800, metà corsa in 59.6 da parte del leader, con sempre a comandare il numero 6 di Mendez B, il chilometro rifinito dal battistrada in 1.14.4 con 14.8 di frazione, cavalli che vanno all'attacco della piegata finale, con lo scatto di over the sky, che scavalca Nereides e Mendez B e si ritrova già leader, dopo aver passato i tre quarti in 1.29.2, al suo inseguimento all'esterno c'è l'avanzata da parte di Ottone Jet, che ha preso la scia di over the sky, che affronta in vantaggio la addirittura di arrivo, se ne va per proprio conto over the sky, è una passerella in addirittura over the sky, che va a vincere nei confronti del numero 14. Con in seconda posizione Ottone Jet, a precedere a sua volta Nicea degli Dei, Nereides e Incos, terminati probabilmente nell'ordine. Over the sky ha vinto facile, 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 dall'alto di una forma mostruosa questa Corsa Tris, al secondo posto un ottimo numero 14 di Ottone Jet, a precedere Nicea degli Dei, lungo i birilli Nereides, e all'esterno Incos che va a completare la Tris Quarte Quinte. 1.58.1 intanto il tempo totale da parte del vincitore, 1.13.8 da guagli al chilometro, l'ultimo quarto in 28.9, 13.3 l'addirittura di arrivo, inquadrato Ivano Fierro con over the sky, 4.38 la quota al tot nazionale, che va a siglare questa Corsa Tris Quarte Quinte Memorial Roberto Petrini. Ancora un replay da parte della regia, con la facile affermazione di Over the Sky, che va a siglare la Corsa Tris Quarte Quinte, al secondo posto il 14 di Ottone Jet, a precedere l'8 di Nicea degli Dei, il 2 di Nereides e il 16 di Incos. Questo è l'ultimo ordine d'arrivo della stagione. Grazie. Grazie.